Come dice il titolo, è una festa rivoluzionaria, rivoluzionaria in positiva per tutta la cultura, l'arte e la storia della nostra regione, della nostra città. Finalmente l'Abruzzo si rimpadronisce di un personaggio storico mondiale, un grandissimo innovatore e noi abbiamo voluto fortemente come regione e come comune dare smalto, vitalità a un nostro personaggio, un personaggio che ci invidia tutto il mondo, sarebbe stato forse il più grande influencer attualmente se fosse in vita e penso che Pescara e l'Abruzzo saranno al centro dell'attività culturale storica in questa settimana e sarà una manifestazione che poi si ripeterà negli anni e diventerà forse una delle manifestazioni più importanti in Italia da un punto di vista culturale.